What if, team up, crossover, in che modo queste tecniche narrative, queste strategie narrative stanno prendendo piede all'interno del panorama fumettistico italiano e soprattutto con quali risultati? Questo l'argomento del video che sta per incominciare in cui vi mostrerò diversi albi ma partirò ovviamente da un volume uscito proprio quest'oggi. Buoni fumetti a tutti, ecco quindi che oggi è uscito un what if, una delle tre tecniche, una delle tre strategie per essere ancora più precisi che vi ho menzionato ad inizio video, il what if in cui noi vediamo Paperino che diventa Wolverine, una storia abbastanza interessante almeno per me, che sono abbastanza appassionato di Marvel e che sono appassionato anche del personaggio di Paperino, di Paperinicchi in realtà, ma di conseguenza anche di Paperino. Cosa succede? Questa settimana esce Topolino, il solito Topolino settimanale, con una copertina girevole, flip si direbbe per chi conosce le lingue, girando infatti l'albo. Opla! Compare questa copertina piuttosto allettante, devo dire la verità, Paperino diventa Wolverine. C'è un redazionale, vedete, che spiega un redazionale di Marco Lupoi che spiega un po' il, come dire, il concept di questa operazione. si capisce dai redazionali che corredano questa storia che questo non sarà l'unico esperimento, l'unica incursione Marvel all'interno del mondo Disney e quindi andiamo a vedere se questo what if è un what if è un prodotto allettante. Intanto vi faccio vedere la prima scena, aprendo che cosa vi trovate di fronte, vi dico anche il chi ha fatto che cosa, soggetto e sceneggiatura Luca Barbieri, i disegni Giada Perissinotto. Vi trovate davanti che cosa? Dicevo, vi trovate davanti un gamba di legno che prende in questo caso il posto del Teschio Rosso, un nemico storico soprattutto di Capitano America, ma viene aiutato in questo suo spadroneggiare sulla città dai Bassotti, dalla banda Bassotti Famigerati. La storia in sé è una storia abbastanza semplice, io credo che la peculiarità di questo what if non sia tanto la storia, appunto la vicenda, quanto vedere il parallelo, i parallelismi che sono stati fatti fra il mondo Marvel e il mondo Disney. Guardate per esempio un topolino occhio di falco, notevolissimo a mio parere, i disegni mi sono piaciuti molto come anche la disposizione delle tavole. C'è stato uno studio piuttosto accurato proprio in vista di questa sovrapposizione, si potrebbe dire, di personaggi, di characters e quindi vediamo e apprendiamo dai relazionali che sono appunto di corredo a questa storia che sia da un punto di vista narrativo, sia da un punto di vista grafico, c'è stata molta dedizione da parte di chi ha gestito e curato questa storia. Guardate che belle le tavole, quindi abbiamo un topolino occhio di falco, abbiamo ovviamente un paperino. Wolverine, vedete, pettinato come Wolverine. Da un punto di vista, ecco, se noi guardate tra l'altro, scusate se mi interrompo, ma questa doppia splash ci viene detto nei redazionali che omaggia tutte le divise di Wolverine. Questo denota, vedete, uno studio molto particolare fatto appunto sul personaggio della Marvel. Poi c'è anche Pippo che viene, che interpreta la parte di Hulk, vedete, è un Pippo particolarmente grosso, di solito è longilineo, qui è particolarmente grosso, Pippo, e dicevo c'è stato uno studio piuttosto accurato sulla scelta dei personaggi Disney per creare gli abbinamenti con quelli della Marvel. Le tavole, a mio parere, sono ben costruite e ben disegnate. La storia, ripeto, è una storia piuttosto semplice. Se vi aspettate una storia complessa, articolata, non è questo il tipo di storia, ma è la peculiarità, la particolarità, il valore aggiunto di questa storia sta, come dicevo prima, nell'avere azzeccato da parte degli autori abbinamenti. Cioè Paperino Wolverine, secondo me, è azzeccatissimo. Anche gamba di legno, teschio rosso, insomma, poi ci sono diversi riferimenti. Questo What If, devo dire la verità, su di me ha esercitato un buon, una buona emozione. Guardate che bello, qui veramente, la trasposizione di Paperino in Wolverine. Quindi se volete leggere questa storia pensando di trovare una narrazione, una vicenda particolarmente complessa, questo no, la vicenda è piuttosto semplice. È bello vedere la trasposizione. I redazionali sono molto interessanti. Ci sono sia delle interviste agli autori che dei bozzetti, degli studi, dei disegni preparatori piuttosto interessante. Questo quindi il topolino che ha questa copertina per quello che riguarda Wolverine, poi dopo girando avete invece il settimanale con la copertina regular, diciamo così. Ma quindi il What If, mi si potrebbe dire Fabrix, ti piacciono quindi i What If? In generale devo dire che il What If a me non dispiace. Ad esempio abbiamo avuto il recente albo bis di Dylan Dogg che a tutti gli effetti può essere considerato un What If. È un Dylan Dogg fuori contesto, è un Dylan Dogg retrodatato a circa un centinaio di anni fa. C'è un bloc, anche lui interpreta un ruolo completamente diverso da quello che occupa invece sulla testate o su tutte le testate attinenti a Dylan Dogg. Quindi il What If in generale, se è costruito bene, mi incuriosisce, mi interessa. Non deve a mio parere diventare una regola perché sennò non è più l'eccezione del What If, sennò diventa qualcosa di scontato, qualcosa di tutto sommato prevedibile. Se il What If viene gestito bene e se ha una cadenza non troppo frequente, io non sono così contrario al What If. Passiamo invece al Team Up. Il Team Up, saprete sicuramente, è la... si potrebbe dire il fare squadra, quindi personaggi che fanno parte di collane diverse che si uniscono per fare, per essere i protagonisti di una certa vicenda. Il mercato italiano è pieno di Team Up, è diventato pieno di Team Up con il passare del tempo. Fino a alcuni anni fa era piuttosto raro vedere dei Team Up, ma adesso vi proporrò forse uno degli antisignani dei Team Up in Italia. Eccolo qua. Martin Mister con Mister No. Fuga da Skynet, questo uno speciale di Mister No, piuttosto datato. Siamo nel luglio del 1993, una storia scritta da due degli sceneggiatori. Uno è il mio preferito, Guido Nolitta, alias Sergio Bonelli. L'altro è sicuramente uno tra i miei preferiti, Alfredo Castelli. I disegni sono di Divitto. Questo è un Team Up interessante. La storia, come potete vedere dalla copertina, non vi svelerò molto sulla storia perché se qualcuno volesse andarsela a leggere, è una storia molto godibile. È una storia che mescola avventura e mistero. Vedete questi personaggi in copertina già lasciano intravedere una delle tematiche di fondo di questa storia. Vedete che abbiamo delle scene che si svolgono all'interno della foresta amazzonica, tipico di Mister No, ma ci sono altre scene ambientate nella New York di Martin Mister. Nella gran parte di questa storia vediamo un Mister No attempato, più vecchio. D'altro canto, per fare coincidere i tempi della storia, si è dovuto invecchiare un po' Mister No. Questo quindi un Team Up, un Team Up a mio parere piuttosto riuscito. Poi i Team Up hanno preso piede. Questo mi ricordo quando uscì, io rimasi abbastanza sorpreso, ero molto curioso. Non era frequente vedere dei Team Up in Bonelli. I Team Up c'erano, per esempio, nei comics. Ne faccio vedere uno piuttosto famoso. Il Team Up fra Lanterna Verde e Freccia Verde. Questa è la versione della collana di Gazzetta dello Sport che ha ripubblicato in tre volumi questa saga. Guardate i disegni, ma i disegni, veramente, i disegni dei comics di questi anni. Io sarò forse un po' vintage come gusti, ma io amo molto questo tratto. Amo molto questo tratto. Forse adesso li faranno anche più precisi, più, che ne so, dettagliati, il computer, quello che si vuole. Ma io questi disegni sinceramente li apprezzo tantissimo. È una storia particolare, questa non credo di averne mai parlato sul canale. Non ne parlerò adesso perché andrei fuori tema. Però era per dire di un Team Up, un altro Team Up piuttosto recente. Invece questo è, tornando all'Italia, il Drago Nero Conan. Anche in questo caso vi dico, insomma, sommariamente il chi ha fatto che cosa. Il soggetto della sceneggiatura, Luca Enoch e Stefano Vietti. I disegni, copertina, Lorenzo Nuti. La, diciamo, il lettering, Marina San Felice, Antonio Esposito. Insomma, questo è quanto. Ne ho già parlato di questo albo sul canale, vedete. Anche in questo caso un Team Up. Anche in questo caso un Team Up, a mio parere, abbastanza riuscito. Io non ho poi completato l'acquisto degli altri albi per motivi più che altro di budget, non tanto per motivi di gusti. Perché questo primo albo non mi era dispiaciuto. Può darsi che lo recuperi nel mercato delusato. Adesso, chi segue il canale sa che mi sto appassionando molto ai recuperi. Quindi, perché no, nella mia mancolista potrebbe entrare anche la seconda e terza. Credo si dipanasce su tre albi. La seconda e la terza parte di Dragon Hero Conan o comunque gli albi che costituiscono questa questa run. Recentemente, tanto per dare un'idea di come si sia evoluta, di come si sia ampliata questa tendenza dei Team Up, abbiamo visto. Ci sono dei Team Up, per esempio, anche fra Tex e Zagor. Se ne è parlato molto molto sul canale, quindi, scusate, sulla rete, io non ne ho parlato, anche perché insomma ne avevano già parlato tanto molti altri, quindi insomma non sono ritornato su questo argomento, anche perché eventualmente mi riservo di farlo più avanti. Ma che cosa succede? La storia che prevede un Team Up, tutto sommato, può piacermi o non piacermi. Allora, mentre sul What If sono sicuramente più ottimista e sono anche più propenso a un What If, per quello che riguarda il Team Up ho sentimenti contrastanti, perché il Team Up molto spesso si trasforma, non sempre, molto spesso, però si trasforma in un albo piuttosto convenzionale. Non si approfondisce quasi mai un aspetto piuttosto che un altro, cioè nel senso che si cerca sempre di tenere un certo equilibrio fra i vari personaggi e quindi dovendo tenere la descrizione dei vari personaggi in un più o meno buon equilibrio, alla fine non si parla praticamente di nessuno. Quindi i Team Up sono validi se sono fatti molto bene. Secondo me non è facile scrivere un Team Up, quindi io rispetto chi viene incaricato di scrivere un Team Up, perché comunque c'è uno studio da fare, prima di tutto sui personaggi coinvolti nel progetto e in secondo luogo uno studio per fare incontrare in maniera coerente questi personaggi. Quindi sicuramente non sono storie semplici da scrivere, il più delle volte però sono storie, quelle che ho letto, che mi hanno lasciato un po' freddino. Ditemi anche la vostra, come sapete questo è un canale di scambio di opinioni e di pareri, quindi ditemi la vostra se avete letto qualche Team Up, qualche What If o anche qualche crossover naturalmente che vi ha particolarmente deluso o particolarmente soddisfatto. Andiamo ai crossover che fra queste tre strategie narrative è quella che sinceramente mi convince meno, lo dico senza grandi problemi, è quella che mi convince meno perché contiene in sé un elemento per me fastidioso, cioè il crossover è, come saprete, la storia che si dipana su diverse collane, cioè io per vedere tutto lo svolgimento di una determinata storia debbo comprare degli albi che appartengono a collane diverse. Ora questa strategia, questo tipo di approccio già così a livello astratto, senza scendere nel dettaglio di un personaggio piuttosto di un altro, è un approccio che mi infastidisce perché mi costringe questa strategia a comprare degli albi che magari senza questa costrizione non comprerei. Vi faccio subito qualche esempio per entrare nel merito e per non fare video troppo lunghi. Tempo fa uscì un crossover in Bonelli, Dylan Dog e Dampir, questo l'albo in cui si apriva la storia, arriva il Dampir, cosa succedeva? Che alla fine di questo albo, di cui adesso vi dirò anche il chi ha fatto che cosa, c'era, vedete, continua su Dylan Dog? No, continua su Dampir numero 209, quindi se il lettore non era un acquirente della collana Dampir si doveva comprare il Dampir per vedere come andava a finire la storia in cui veniva coinvolto anche Dylan Dog. Ora questo modo, questa tipologia a me non piace, non piace un gran che, cioè mi potrebbe piacere se eventualmente fossi l'acquirente di tutte le collane che prevedono il dipanarsi di questa trama, di questa run, ma siccome è abbastanza improbabile che io sia l'acquirente di tutte, diciamo che il più delle volte non sono molto soddisfatto. Comunque sia, questo albo faceva parte ancora della gestione Roberto Recchioni, il curatore era lui in questo periodo, stiamo parlando dell'agosto 2017, il soggetto è la sceneggiatura Roberto Recchioni, Giulio Antonio Gualtieri, il disegno di Daniele Bigliardo, la copertina Gigi Cavenago, ancora, il lettering Cristina Bozzi. I crossover li faceva anche, a parte la Bonelli, li faceva anche Max Bunker, li faceva anche Max Bunker, per esempio in, questo è Satanic, è quello di Gazetta dello Sport, il Satanic ha colori, qui è un albo, uno degli ultimi albi usciti, non più disegnati da Magnus, in questo caso, ma da Dario Perrucca, mentre invece il testo è sempre di Max Bunker, tanto per dirvi il chi ha fatto che cosa. In questa storia finale di Satanic c'è un crossover, in sostanza, cioè, compare un altro personaggio, Beverly Kerr, la storia è spezzata fra vari albi. Qui va bene, perché viene praticamente riunita con un'opera di Cesello notevole, da parte dei curatori di questa collana di Gazetta, ma altri crossover in casa, in casa Bunker, diciamo così, nella casa editrice di Max Bunker, altri crossover sono stati molto frequenti, ne ricordo uno fra Alan Ford e Criminal, ad esempio, oppure ce ne sono altri, con personaggi che vanno a fare visita ad altri personaggi sulle loro collane. Allora, io amo moltissimo, diciamo, Max Bunker come autore di fumetti, ne seguo molti personaggi, ne sto recuperando anche altri, per esempio Kerry Cross, ho fatto vedere in un recente video che sono molto interessato al recupero di questa serie, ma anche in questo caso devo dire che questi crossover un po' mi mettono in difficoltà. questa è un po' la mia opinione su queste tre strategie, chiamiamole così, di proposta, di fumetti, di narrazione fumettistica, quindi sul what if sono abbastanza ben disposto, sul team up così così, nel senso che di volta in volta vado a vedere anche se il più delle volte ho notato degli albi non brutti, ma certamente un po', un po', un po', si vedeva che andavano un po' con il freno tirato, per i motivi che ho detto durante il video, i crossover invece, a meno che non ci siano veramente delle run che hanno la necessità di essere poi, di avere delle valvole di sfogo, diciamo così, anche su altri albi, il che ci può anche stare, per carità, però in generale come concetto, come impostazione mi infastidiscono un po', perché mi costringono a comprare molto probabilmente degli albi che appartengono a collane che io non faccio e quindi albi che io non comprerei, ecco, quindi è un po' per me una forzatura, questo non toglie che in passato ho fatto queste scelte, in futuro potrò anche rifarle, ma certamente non le faccio di buon grado. Queste, le mie opinioni su questi, ripeto, tre, quindi team up, crossover e what if, a questo punto ditemi la vostra, un video, come sempre, insomma abbastanza denso di argomentazioni, non mi rimane che aspettare i vostri commenti e in attesa di questi, come al solito, dire buoni fumetti a tutti e alla prossima!